Agumon, ti avevo detto che non potevi mangiarli, sono brownies alla Maria! Ah, cavolo, io che volevo conservarli per il weekend. Agumon, so che sei lì dentro. Puoi uscire, va tutto bene. Posso sempre farne degli altri. Agumon, stai bene, amico? Sì, dai, io... Io sto bene. Mi sento molto bene.